Musica Mercoledì 8 febbraio alle ore 17.30 nella sala convegno del castello di Conversano, organizzato dall'ufficio di piano che raggruppa i comuni di Conversano, Polignano a Mare, Monopoli e la AS Provincia di Bari, si è svolto l'incontro su RED, reddito di cittadinanza. Alta l'attenzione del pubblico in occasione di questo evento, visto l'impatto sociale che la misura regionale, dedicata al lavoro inclusivo, si propone di offrire. A discutere sul tema dirigenti scolastici, imprese, organizzazioni del terzo settore, CAF, patronati e ASL. A spiegare alle direttrici le azioni che i beneficiari dovranno seguire per ottenere il reddito, c'era la dirigente, la sezione inclusione sociale della Regione Puglia, dottoressa Lamaria Candela, l'assessora all'offer della città di Conversano, dottoressa Francesca Lippolis, e il sindaco avvocato Giuseppe Lovascio. Il RED, ricordiamo, è una misura di integrazione del reddito, in condivisione con gli obiettivi della misura nazionale SIA, sostegno all'inclusione attiva, a cui possono accedere tutte le persone in difficoltà economiche e in condizioni di fragilità sociale, al di sotto delle condizioni minime per un'esistenza adeguata. Nel video le interviste alle relatrici, Anna Maria Candela e Francesca Lippolis. Allora, siamo con la dirigente, la dottoressa Candela, Anna Maria Candela. Dottoressa, il vostro impegno è quello di seguire soprattutto le domande del REDD. Questa è una misura continua, quindi quali gli attori che si offrono per raccogliere le richieste? Allora, abbiamo seguito, abbiamo lavorato negli ultimi sei mesi, soprattutto appunto per raccogliere le domande, a questo punto ne abbiamo 30.000 per tutta la Puglia. Abbiamo cominciato da un paio di mesi, soprattutto a sollecitare invece i soggetti ospitanti, cioè le imprese, gli enti locali, le parrocchie, le caritas, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, i CAF, i patronati, le scuole, tutti quei soggetti che possono trarre beneficio dall'inserimento nelle loro organizzazioni di persone che beneficiano di REDD e vogliono rimettersi in gioco e rendersi utili per la loro dignità ma anche per la comunità nella quale vivono. Devo dire che nel giro di un paio di mesi il numero di posti a tirocinio è già cresciuto molto e che stiamo registrando un interesse crescente, anche perché abbiamo cercato di abbattere il più possibile anche gli oneri e i vincoli per i soggetti ospitanti pur nel rispetto appunto della normativa vigente e a questo punto diciamo siccome molti ambiti territoriali in questo mese finalmente stanno cominciando ad abbinare il beneficiario del REDD ai posti di tirocinio è importante che in questa fase si popoli ancora di più il catalogo. Quindi dottoressa sottolineiamo che il REDD è una misura di inclusione sociale, quindi è un sostegno minimo? Allora è un sostegno economico a reddito sicuramente che utilizza la formula dell'inclusione sociale attiva perché non in cambio ma insieme al sostegno economico sollecita le persone a mettersi in gioco e a rientrare nelle relazioni sociali, nelle comunità lavorative e sociali appunto del territorio. Non è una misura assistenzialistica ma dall'altro lato non è neppure una politica attiva del lavoro cioè guai a pensare di poter misurare l'efficacia di REDD il numero di posti di lavoro creati. Dobbiamo misurare l'efficacia di REDD il numero di persone che guardano con maggiore serenità al futuro loro e dei loro figli rispetto ad opportunità concrete di reinserimento nel mondo del lavoro. Il punto reddito di dignità e questa linea di misura che ovviamente possano essere dalla regione con l'altra linea sia appunto la linea nazionale permette ovviamente alle persone che hanno una situazione economica tale di poter presentare domanda e di conseguenza poter avere la possibilità di lavorare presso aziende private che presentano dei progetti o le realtà pubbliche anche loro che presentano dei progetti. Per l'attuazione di Italiazione è stato creato un catalogo quindi raccontiamo. E certo il catalogo ovviamente trovate sul sito regionale dove poter ovviamente vedere quali sono le condizioni per poter partecipare a REDD ovviamente ci sono tutti dei parametri che deve avere l'utente che vuole usufruire di questa linea di misura in merito altrettanto per quanto riguarda il privato che deve presentare ovviamente i progetti su cosa deve tenersi. Grazie a tutti!